Presto Francesco Totti e Ilari Blasi, torneranno in tribunale per un'udienza legata alla loro separazione. Recenti report di Dago Spia e Il Messaggero avevano sollevato l'ipotesi di tensioni tra i due ex coniugi, dovute a una presunta richiesta di aumento del mantenimento da parte di Ilari. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono che potrebbe esserci un accordo privato tra l'ex calciatore e la conduttrice. Secondo il settimanale Nuovo, Totti e Blasi avrebbero trovato un accordo riservato che impedirebbe la testimonianza di eventuali amanti durante le udienze. La rivista riporta che l'intesa sarebbe finalizzata a evitare conflitti pubblici, con l'obiettivo di tutelare i loro figli. La copertura del magazine cita, Ilari Blasi e Francesco Totti, accordo segreto per non far testimoniare i presunti amanti. Pensiamo ai figli e non diamo spettacolo, le ultime indiscrezioni suggeriscono che i due ex coniugi abbiano deciso di evitare ulteriori battaglie legali per il bene della loro famiglia. Non è chiaro se in tribunale compariranno Noemi Bocchi e Cristiano Iovino. Solo tre settimane fa, il Corriere della Sera aveva anticipato che la causa di separazione sarebbe tornata in tribunale alla fine di settembre, con la giudice Simona Rossi chiamata ad ascoltare i testimoni di entrambe le parti. Tra i nomi citati figuravano anche Alessia Solidani, l'hairstylist di Ilari, e altre persone vicine a entrambi, inclusi alcuni nomi misteriosi.